Ciao, mi chiamo Marco, sono responsabile dei progetti per Copi nel Medio Oriente. In questo momento mi trovo in Iraq, in un villaggio a sud di Mosul. Qui Copi l'anno scorso ha costruito 4 scuole per 1200 bambini. Quest'anno ne stiamo costruendo altri 3, raggiungeremo un totale di 3750 bambini. Donando il 5 per 1000 a Copi puoi contribuire a tutto questo segnando il codice fiscale 80118750159. Grazie dall'Iraq.